In diretta anche questa mattina per leggere i giornali insieme a voi. Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Allora, forza e coraggio, siamo qua per trascorrere un'altra giornata, un'altra giornata di quelle che porteremo per sempre nel nostro cuore, come tutte quelle che stiamo vivendo, abbiamo vissuto in queste giornate così difficili. Ma insomma, siamo qua. Andiamo avanti con le previsioni del tempo. Vediamo il tempo di oggi, anzi no, prima il Santo, il Santo oggi è San Patrizio, il sole è sorto alle 6 e un quarto, tramotterà alle 6 e un quarto. Il tempo, dicevo, il tempo oggi sarà con cielo sereno poco nuvoloso, così come nella giornata di domani, mercoledì 18 e così anche per quella del 19 di marzo. I giornali, i giornali, il resto del carino Corriere Adriatico, andate a comprarli in edicola. Qualcuno dice, ma se non si può uscire di casa, ci si organizza in qualche modo, magari qualcuno che può andare facendo la spesa, andando lì, ci sono delle edicole da qualche parte, si possono prendere. Poi ci sono dei servizi volontari che lo vanno a prendere, insomma ci si organizza in qualche modo. Allora, case di riposo, la lunga scia di morte, salgono a 8 le vittime al Santa Colomba, 3 anche a Fano, aiutateci, impossibile gestire la situazione. A centro pagina, maxi contagio tra sanitari, sono 15, erano arrivati a Fano dal San Salvatore, c'è anche un primario. Un barlume di speranza poi, rallenta il trend dei positivi, ma bisognerà aspettare il grafico di oggi per vedere se è stato un caso oppure c'è questo trend appunto in discesa. Poi parla Ceriscioli in un'intervista, il resto del carino dice le mascherine e i reagenti che mancano, insomma la situazione è assurda. Il Corriere Adriatico, l'edizione di Marche Nord, il titolo, altri respiratori o si muore, il drammatico appello dei sanitari in prima linea per combattere l'emergenza coronavirus nelle Marche. Nuovi contagi, prima frenata della progressione, 115 casi in meno, le vittime salgono a 69, ieri soltanto ieri erano 12. Poi c'è un, anzi due pagine ci sono sul Corriere Adriatico di questa mattina, dove si fa il, punto per punto si dà una spiegazione a tutto quello che è il decreto, soprattutto che riguarda l'economia. Dall'IVA alle piccole e medie imprese, guida al salvatutti. Lo shock trovata positiva al nonno mese di gravidanza serve un cesareo, una donna incinta al nonno mese che è risultata positiva al coronavirus. La paziente è stata collocata provvisoriamente nella clinica di malattia infettiva Torrette ad Ancona, in attesa di essere trasferita nel nosocomio di Civitanova. Struttura dedicata in questa fase alle donne in gravidanza è deciso per lei anche un taglio cesareo d'urgenza. Le mascherine, dicevamo l'intervista del resto del Carlino al governatore delle Marche, le mascherine farlocche con i rifornimenti in ritardo, il Presidente dice il governo mantenga tutti i suoi impegni, il picco deve ancora arrivare, le guarigioni ci sono ma non figurano, attenzione, perché risparmio il reagente necessario per il doppio tampone negativo. E' chiaro? Quindi questo è quello che dice, a proposito perché poi quando arrivano queste tabelle la prima cosa che uno va a vedere dopo i decessi è se ci sono dei guariti, le persone guarite. Ci sono ma in questo momento non vengono evidenziati perché per essere dichiarati guariti insomma ci vuole il secondo tampone, ma per fare il secondo tampone, quindi vedere se la persona è diventata appunto tornata negativa, c'è bisogno del tampone e del reagente. Ma il reagente non c'è, ce n'è poco, allora il governatore dice mi interessa utilizzarlo questo reagente per trovare casi positivi, se lo consumo per trovare, per vedere la negatività sul paziente che già era positivo diventa un problema, quindi preferisco aspettare e dichiararli poi quando sarà in un secondo momento. Intanto dice noi siamo come Milano, non erano utilizzabili queste mascherine, ora aspettiamo anche i 39 ventilatori che ci hanno destinato. Praticamente nelle marche è successo quello che è successo anche nella regione Lombardia, le mascherine non le abbiamo nemmeno aperte, ha detto il governatore Ceriscioli, altro che distribuite. Perché? Perché non sono certificate, non servono a difendere medici ed infermieri dal contagio, sono semplici mascherine cartonate che si possono usare una volta per non mettere in contatto le emissioni liquide delle singole persone. Io non faccio rischiare nessuno, tantomeno operatori importantissimi per la salute di tutti, non capisco quelli che dicono prendiamole lo stesso. Virus, prima frenata, titola il Corriere Adriatico, ma nessuno si illude, sarà ancora dura. L'ultimo aggiornamento sui nuovi casi, nuovi contagi, 120, registra sì un rallentamento, però è presto per parlare di inversioni di tendenza. Intanto si montano gli ospedali da campo e si vedrà già questa mattina se la prima frenata in questa escalation di nuovi contagi avrà un seguito oppure se il dato relativo a domenica andrà registrato solo come una sporadica flessione più che una frenata prolungata. Intanto, come dicevamo, il totale dei casi positivi accertati nelle Marche è salito a quota 1.242, mentre sono più di 3.200 le persone in isolamento domiciliare dopo contatti a rischio. A Santa Colomba, a Pesaro, otto morti, rivolta di parenti e sanitari. Sale il numero dei decessi a casa Aura e dieci ospiti sono positivi al test. I familiari dicono, noi non ci informano, un'infermiera dice, aspetto il tampone da giorni. Caso Roverella, ci sono anche tre, qui c'è qualche refuso, tre, in Mala, Cop, Labirinto, Decessi, probabilmente c'è qualche refuso. Non ha conferma che si tratti comunque di coronavirus. Ma la situazione è difficile anche a Famiglia Nova, un'altra casa di riposo, questa volta a Fano. Tre vittime e un esercito di sospetti contagiati. Franco De Felice parla, che dice, non ci lasciate soli nella gestione di questa emergenza. È il presidente della SCOP. Anche 12 operatori hanno manifestato praticamente sintomi. Ci sono in questo momento tre morti, tre donne già gravemente malate, ma risultate positive al Covid-19. Il bollettino di oggi è appunto tre decessi, tre donne di 79, 98 e 91 anni. Erano tutte queste persone compromesse, ma comunque positive al coronavirus. Abbiamo altri sei ricoverati, quattro donne e due uomini di età compresa tra i 67 e i 94 anni. Dei 56 pazienti ricoverati, persone che fanno parte di questa struttura, abbiamo più della metà sintomatica, soprattutto con stati febbrili. Dal primario agli infermieri invece, siamo sempre sul resto del carlino, 15 contagiati. Tegola sull'ospedale di Fano, dove erano stati trasferiti sanitari del San Salvatore, e hanno lavorato sette giorni in attesa del verdetto del tampone. Dunque c'è anche il direttore di neurochirurgia Marco Guidi, per fortuna sta bene, crediamo che anche il polo ospedaliero pulito di Fano non sia più tale, risulti compromesso, dicono i sindacati, sono stati fianco a fianco con altri operatori. Dunque la situazione non è più limpida, ormai è compromessa, non si può parlare di ospedale pulito, esente da Covid-19. Dove vado? A comprare droga. Controlli e denunce, succede praticamente di tutto, i carabinieri hanno denunciato altre tre persone per non aver rispettato le norme del decreto, tutti stranieri, un albanese che proveniva da Rimini e che ha riferito di doversi recare a Pesaro per motivi personali, quindi due marocchini, uno proveniente da Tavuglia e l'altro da Vallefoglia, dei quali uno minorenne. Insomma, Polizia, Carabinieri, Guardi di Finanza, Polizia Locale, sono tutti impegnati a controllare il territorio perché, lo ripetiamo, per chi ancora non l'avesse capito, in questo momento di emergenza sanitaria nessuno è autorizzato ad uscire di casa se non nelle tre situazioni che abbiamo detto e ridetto più volte e vale la pena comunque velocemente ripeterlo, quindi se uno ha comprovati motivi di lavoro, quindi deve lavorare, poi per necessità, quindi se uno deve andare a fare la spesa oppure in farmacia o ha qualche problema di salute e qualche emergenza sanitaria e di conseguenza è autorizzato a uscire. Per tutti gli altri casi non ci sono scusanti, quindi si va incontro al penale. Rallentano i contagi in provincia, anche il resto del Calino fa un titolo che dà un po' di speranza anche se bisognerà attendere i prossimi giorni, insomma dobbiamo vedere che cosa succede anche oggi, vedere il grafico di oggi per capire se è soltanto un giorno ed è un caso, non un caso, comunque è soltanto un giorno oppure è un trend. Però è un'altra giornata nera con 11 decessi. Se la tendenza sarà confermata è probabile che ci stiamo avvicinando al picco dell'epidemia. Intanto il Ministero misura lo stress del sistema sanitario, le Marche sono al secondo posto dopo la Lombardia. Poi c'è nonna Iris che ha aperto gli occhi, ha pronunciato alcune parole e dall'ospedale San Salvatore dove è ricoverata non molla. Oggi compie 100 anni e insomma compie questo secolo di vita e sarà festeggiata a distanza da tutta la sua famiglia. I sanitari ci dicono che le sue condizioni sono sempre gravi ma sono stazionarie e che lei comunque reagisce. Malaventura, lui è invece il giocatore di basket, è positivo, ma la febbre sta scendendo. Il tampone è risultato dunque positivo ma c'era da aspettarselo vista la polmonite che l'ha colpito, il respiratore dell'ossigeno a cui era stato attaccato dopo il ricovero San Salvatore di Pesaro. Ma ieri Mattia Malaventura, 41enne ed ex giocatore di basket, non aveva più febbre e questo è già un buon segnale. Rianimazioni con le ore contate, senza ventilatori non si resiste, oggi sono attesi 38 macchinari per la respirazione. Torrette ne chiede 100, vedete questa fotografia, è un ospedale da campo che è stato allestito davanti al pronto soccorso di Torrette di Ancona. E preoccupa il livello di stress a cui la sanità marchigiana è sottoposta per accogliere ondata di nuovi malati, pazienti covid positivi, che continuano ad accalcarsi ai triange degli ospedali in prima linea, 10 dei quali interamente dedicati appunto al coronavirus. Poi c'è anche questa emergenza, urgenza dei ventilatori per le terapie intensive che ancora tardano e quindi praticamente insomma la situazione rimane ancora difficile. Questo viene raccontato su questo articolo del Corriere. Poi di nuovo dal resto del Carlino andiamo a Fermignano dove il sindaco Feduzzi ha scritto su internet, sulla pagina Facebook, ho il virus o non so dove l'ho preso ma comunque poi rassicuro a tutti, sto bene, ho continuato a lavorare a casa, tutto è cominciato con alcune linee di febbre, poi l'isolamento e infine il risponso. Il coronavirus dunque ha colpito anche il sindaco Fermignano, a renderlo noto è stato lui stesso, ieri pomeriggio ha informato i concittadini attraverso un post, ringrazio tutte le persone che direttamente e indirettamente si sono informate sul mio stato di salute, ha scritto, poi giovedì scorso ha fatto il tampone, racconta dove sono risultato positivo, ho subito informato le persone che mi erano state vicino a lungo, i sindaci dunque dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro che ho incontrato in una riunione, esclusi Maurizio Gambini di Urbino che era già in quarantena e Gianalberto Luzzi che era assente, poi insomma c'erano altre persone, dice il sindaco, racconta il sindaco su un post che trovate anche sulla sua pagina Facebook che tutte le persone che sono state a contatto con lui comunque stanno bene, non hanno sintomi, lui ha continuato a lavorare, tra qualche giorno finisce la quarantena quindi potrebbe e dovrebbe tornare di nuovo fuori senza problemi. Daniele invece è in prima linea nel 118 a Cagli, l'appello che lancia è siete tutti nostri alleati, ecco come combatto questa battaglia, facciamo doppi turni e giriamo per 12 ore come astronauti bagnati di sudore e Daniele Conti che ha 48 anni e dedicagli, lavora in questo periodo alla postazione territoriale dell'emergenza sanitaria, cioè la POTES 118 di Fano, dice stiamo facendo doppi turni, la gente ancora va a spasso, insomma siamo in una situazione seria che ormai è palese sotto gli occhi di tutti, ma ancora non tutti capiscono che serve l'aiuto di ciascuno. Addio Maremma, la vita per lo sport avevi gli occhi pieni di entusiasmo, Massimo Mainardi era il decano dei giornalisti pesarese, scomparso a 78 anni, dalla Toscana a Pesaro con due passioni, il basket e il baseball, la città di Pesaro dunque perde un uomo per bene, un personaggio conosciutissimo che Pesaro aveva adottato da tempo in mane, all'età di 78 anni se ne va Massimo Mainardi, decano dei giornalisti pesaresi, viveva da un po' al centro di ricovero per anziani di Santa Colomba e la sua scomparsa potrebbe essere ricondotta il coronavirus anche se non ci sono conferme ufficiali. L'unica certezza è che era un personaggio molto noto e amato nella città. Walter Scavolini dice che era una brava persona che si faceva stimare dai clienti. Sospesa la raccolta invece domiciliare degli ingombranti, Marche Multiservizi chiede aiuto ai cittadini, segnalate alle autorità chi ora abbandona i rifiuti. E Montecchio invece piange e Tina Fabri ricoverato Gattoni invece è positivo, a prensione per l'assessore che ora si trova al San Salvatore, cordoglio per la scomparsa della signora Bertulli, stretta del comune di Vallefoglia, di vieto di ingresso anche sulla pista ciclopedonale. Questa è la foto dell'assessore Gattoni durante uno dei suoi video notiziari comunali in onda su YouTube. Il PD pesarese polemizza invece di tagliare Tosap, ICP, la tassa sulla pubblicità e le rette, i gruppi consigliari dell'opposizione sul nodo delle tasse locali. Addio a Gianfranco, anima di Villa Fastigi, una miriade di messaggi e di ricordi per Di Mario, morto domenica a 69 anni al San Salvatore per complicanze dovute al coronavirus. Giovanelli dice che aveva un rapporto speciale anche con Massimo D'Alema. Sotto invece se ne è andato Luciano Merlanti, storico commerciante della città, aveva 79 anni, si è spento a Camerino, morte anche le sorelle romani, sorelle dell'olimpionico di nuoto Angelo. Insomma, come vedete, un bollettino di guerra. Ciao Maremma, dato tutto per lo sport. Massimo Mainardi, 78 anni, si è spento ieri mattina a Santa Colomba, dove ha vissuto gli ultimi anni. Nel 2017, l'inizio del Calvario, Menade in questa foto lo vedete con Ario Costa, il campione di basket, sotto invece con il giocatore della Vista Rocco Costantino. Era una persona buona, dice l'Avvocato Pazzi, piena di amici che provenivano dal basket, dal calcio, dal baseball, insomma dai suoi mondi. Un cuore grandissimo, questo è il ricordo ancora, un archivio sterminato anche nella sua testa. Cisnell, l'azienda di Colli al Metauro, dona alla nostra sanità dei fibrillatori e mascherine, in aiuto al territorio, la società che produce macchine per la lavorazione del ferro da cemento armato, ha fatto questa donazione, il suo consiglio di amministrazione ha deciso l'acquisto di due dei fibrillatori professionali, dal costo di 20 mila euro ciascuno, da donare all'azienda ospedaliera Marche Nord, in prima linea nella lotta al Covid-19. Poi Mondolfo, che sanifica le strade per i dipendenti comunali, ha attivato il lavoro da casa, chiuso il cimitero fino al 25, garantiti i funerali, ma in forma strettamente privata. Poi la notizia invece di questa studentessa dell'Erasmus, che racconta l'odissea per rientrare in Italia. Voli cancellati, indicazioni contraddittorie, poi ho rivisto mio padre senza poterlo abbracciare. La Spagna chiude i porti, Lucia si imbarca, ma praticamente al volo. E qui racconta qual è stato appunto, che cosa ha dovuto passare per questo viaggio, queste ore di angoscia. È stato un viaggio, dice, della speranza, ma le settimane prima erano ancora peggio, sembrava un film. A Cuba invece, in pieno allarme, ma l'agenzia ci aveva rassicurato, tre amiche pesaresi erano partite per una vacanza il 4 di marzo, una volta giunte ai Caraibi, sono stati bloccati tutti i voli per l'Italia. E poi la pagina di Fano, dove si parla dell'opera Padre Pio, l'accoglienza non si ferma, dice Giuseppe Franchini, vicepresidente dell'opera che si trova a San Paterniano, dove c'è la Basilica, il centro gestito dall'associazione, ha bloccato nuovi accessi, ma i 17 ospiti praticamente possono restare. La mensa funziona sì, con l'asporto però. Come passiamo il tempo? Tutti in isolamento, servizi in cucina, pulizia e corsi di italiano. Chiuso da oggi invece il parcheggio dell'ex caserma Paolini, l'addetto alla sorveglianza della protezione civile, potrà così essere utilizzato per altri servizi di assistenza. È una chiusura che un po' ha creato qualche malumore, anche in redazione sono arrivate, al nostro telefono sono arrivate delle segnalazioni, ci chiedevano insomma, soprattutto per chi lavora da quelle parti, di poter avere qualche permesso, però il parcheggio va custodito, non si può tenere aperto senza che nessuno lo sorvegli, senza sorveglianza e di conseguenza quando manca la persona va chiuso il parcheggio intero. Queste sono le disposizioni. Per il resto magari qualche posto riservato, vicino soprattutto alla farmacia qualcuno ci chiedeva, un posto riservato, qualche posto riservato per chi lavora. Mascherine introvabili, intervengano le istituzioni, l'SOS dei commercianti, ogni giorno decine di richieste telefonate, intanto sul web i prezzi sono ormai astronomici, poi bisogna capire anche se poi queste mascherine arrivano o non arrivano. Certo, davvero, anche questa storia delle mascherine è davvero qualcosa di incredibile, ma ormai questo è, i conti, come si dice, si fanno alla fine, vedremo, ma ci sarà molto a discutere, ne parleremo tantissimo, secondo me, o forse faremo di tutto per dimenticare questa brutta storia, questo brutto periodo. Cambiamo pagina, andiamo su Fano, del Corriere Adriatico, poco pesce, è chiuso il mercato ittico, la marineria attende un supporto, non si esclude lo sbarco degli equipaggi per poter accedere alle indennità di disoccupazione, i vongolari continuano però ad andare in mare, dato che è aperto il canale comunque delle vendite all'estero e anche dei supermercati. Dottore in storia, la discussione si fa online, uno studente fanese, Riccardo Negusanti, 23 anni, si è laureato a Unibo, la tesi sui pescatori, una tesi chiaramente via Skype. I pescherecci all'ancora, la rostita è una marcordi, in mare solamente le vongolari che lavorano per i supermercati, anche per il mercato spagnolo, il fresco si rimedia solo nelle bancarelle del porto. Per il momento prendono in largo anche i barchini, aspettiamo che riprenda il mercato, in attesa le spaghetti o le vongole sono ancora possibili, ma insomma la rostita, come si dice da noi a Fano, per la rostita ci vorrà un po' di tempo. Il mobile si è fermato, mentre la meccanica continua la produzione, provincia a due facce, richieste di cassa integrazione ancora basse, tanti imprenditori attendono i provvedimenti governativi. Lorena Fuligni dice sono rimasti aperti solo pochi mobilifici, ma solo per smaltire praticamente il lavoro con l'estero e i contact. Mentre la promozione turistica sul web svela l'arte degli antichi palazzi, è un tour virtuale all'interno del Montevecchio che ospita anche lo straordinario scalone d'onore. Questo è l'imponente scalone di Montevecchio, siamo sulla pagina di Fano, le immagini diffuse dall'assessorato rendono Fano ricca di cose da scoprire. E poi, fosse sei ore, la frazione abbandonata, l'attacco dei consiglieri Tarsi e Danna che chiedono rimedi, la sosta per i residenti a un rebus, si potrebbe utilizzare il parcheggio della casa cantoniera. Spinta famiglia e imprese con interventi straordinari, l'amministrazione, e qui siamo a Pergola, e l'opposizione condividono la necessità di misure drastiche. Dunque, mentre il governo, nella giornata di ieri, ha varato il decreto Cura Italia, una super manovra per fronteggiare l'emergenza anche a livello locale, si interroga su quali misure adottare a livello economico e si prendono provvedimenti. A Pergola, il gruppo di opposizione chiede all'amministrazione comunale di sostenere subito economia e famiglie con interventi straordinari. Sanificare strade, supermercati e uffici, l'Unione per Fossombrone chiede un provvedimento ad hoc anche all'amministrazione di Fossombrone, un po' sulla scia di quello che hanno fatto a Pesaro e a Fano. Raccolte di firme, invece, per Sgarbi, i suoi errori sono generosi, la sottoscrizione sui social è già vicina all'obiettivo delle mille adesioni. Vittorio Sgarbi ha lanciato la petizione Libertà, Libertà, Libertà e l'ha diretta a tutti i cittadini tramite social, invitando a firmare la petizione difendendo la libertà di pensiero di Vittorio Sgarbi. E poi, poi ancora, dal quotidiano Corriere Adriatico, da Senigallia, il restyling di Piazza Simoncelli sarà sorvegliato dagli archeologi, la soprintendenza valuterà alla rilevanza dei reperti che dovessero emergere durante gli scavi. L'esito dei primi carotaggi fa ipotizzare la presenza di attracchi del porto antico. E chissà quanti tesori, quanti segreti nel sottosuolo. Poi ancora da Senigallia, centrodestra, il rebus candidato, anche Canafoglia, si chiama fuori, inserito nella rosa dei possibili sindaci, ma l'avvocato replica le elezioni non mi interessano. Sfiorato l'incidente diplomatico con Vittorio Sgarbi. Il rovista rifiuti in bicicletta, da alcuni giorni l'uomo con il carretto è stato segnalato in diverse zone della vallata. Vedete l'uomo che si sposta, guardate questa fotografia che ci riporta indietro di tantissimi anni, in realtà è una foto di oggi, che si sposta con un carretto dove accumula i rifiuti trovati nei cassonetti. È stato avvistato in vari comuni del territorio. gira con questa bicicletta stracolma con questo carrettino e va a piedi piano piano. Chissà. Mi pare che questa sia l'ultima pagina della nostra rassegna stampa e allora ci salutiamo qui. Grazie per averci seguito. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Vi ricordo che questo è il nostro numero di telefono che potete memorizzare sul vostro cellulare per inviarci le vostre segnalazioni anche attraverso Whatsapp. Vi invito ancora una volta a scaricare Telegram che è un'applicazione simile a Whatsapp dove noi facciamo arrivare i nostri messaggi e le nostre comunicazioni in tempo reale sull'emergenza coronavirus ma un po' su tutte le notizie in tempo reale che succedono. Siamo già più di 2.000 quindi siamo tanti e continuate a iscrivervi e per il resto ci vediamo stasera come detto con il Tg. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti. Grazie a tutti i nostri spettatori